Musica Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione dalla marca trevigiana e allora riviviamo subito assieme gli eventi più importanti degli ultimi giorni. Trovarsi così ci hanno abbattuto, ci hanno affondato. Bastano poche parole a Roberto Penzo, presidente della scuola Soccorso Nautico Terranova della Protezione Civile per spiegare lo stato d'animo dopo quanto accaduto nella cava di Via Antiga a Ponzano dove i volontari addestrano i cani da soccorso. Quando ieri sono arrivati sul posto, l'amara sorpresa. Tutta l'attrezzatura distrutta dai vandali. Il gommone è completamente bucato, esattamente con 20 contati, 26 tagli da coltello e poi è stato rovinato il motore, le attrezzature, quindi tutti i salzagenti, le pagaie, un remo. Tanta roba l'abbiamo trovata nel lago, lungo il lago, l'hanno proprio gettata in acqua. Distrutta la cassetta del pronto soccorso, svuotati gli estintori, danneggiati i manichini utilizzati per le simulazioni. Hanno tolto la testa, tagliato la testa e tolto un occhio della testa. Circa 3.000 euro i danni che per chi come i volontari autofinanzia ogni attività diventa una cifra significativa. Secondo il presidente Penso, si è trattato di una ragazzata. L'idea, presumo che sono dei ragazzini. È il terzo episodio vandalico in circa 10 anni e adesso la decisione di correre ripari installando delle fototrappole. Abbiamo deciso di installare delle telecamere, però cerchiamo di fare qualcosa di più. Si pensa addirittura all'armi perimetrali con GPS. Sono sì in pauria e arrabbiata perché non posso più vivere tranquillamente a casa mia. Casa mia dove ho fatto tanti sacrifici per avere a me casa. Siamo in Viaghetto, periferia di Mogliano, lungo la provinciale per Scorzè. Da qualche mese la zona è bersaglio di ripetute incursioni di una o più bande di ladri. Ad essere presa di mira, ultima in ordine di tempo, l'abitazione di Martino Michelin, ex assessore della giunta Azzolini. Primo tentativo dei ladri una settimana fa a vuoto. Nuovo passaggio venerdì sera con il proprietario assente. Questa volta sono riusciti ad entrare in casa rompendo questa finestra che ha fatto scattare l'allarme. Se avete sentito colpi di fucile e pistola avete un'idea. Così si legge sulla pagina Facebook Mogliano Sorvegliata in un post pubblicato da un residente della zona. Sì, ho sentito lontananza perché ho fatto anche i casi in fondo per là. Colpi di pistola o di fucile, tre secondo alcuni, due secondo altri, sparati in aria da punti diversi, forse per spaventare i ladri. Sui cancelli di queste poche case, immerse nella campagna, campeggiano cartelli come questi, attenti al cane e al padrone. All'inizio della stradina abita questa signora, esasperata ormai dalle continue incursioni dei ladri. Perché senza altro chi venga qua? Io sono passato con la bici sotto e mi sono accorto che dalla parete venivano giù sempre di più pezzi di calcinaccio. Così Fabio De Plano raccontava quanto accaduto. Quei pezzi di calcinacci ora accatastati che si sono staccati dalla parete del Cavalcavie in zona Sant'Angelo a Treviso domenica sera. De Plano è stato il primo a chiamare la polizia locale. La polizia locale è intervenuta, ha quantificato il danno, ha verificato la causa e ha quindi coinvolto innanzitutto i vigili del fuoco. È stata subito chiara la causa. Era un problema di infiltrazione e quindi è stato coinvolto Veneto Strade che è responsabile della questione. Quindi noi contiamo che pur essendo stata messa in sicurezza l'area nel giro di poco tempo possa essere risolto questo problema. La perizia medico-legale disposta dalla procura non scioglie i dubbi della famiglia sulla tragica morte di Marco Cestaro, il 17enne di Fontane di Villorba, che lo scorso gennaio venne ritrovato in fin di vita lungo i binari a Lancenigo. Il ragazzo era morto dopo quattro giorni di agonia e per la polizia ferroviaria si era trattato di un suicidio, ipotesi a cui la madre di Marco, Anna Cattarin, già provata in autunno dal gesto estremo del marito, non ha mai voluto credere. Assolutamente no, non ci credo. Ma non perché mio figlio non potesse farlo, ma perché non riesco a capire come posso averlo fatto. Cioè la dinamica non mi è chiara. Secondo lo studio legale a cui si è affidata la famiglia, la perizia firmata dal medico legale Alberto Furlanetto lascia aperti tutti gli scenari, anche quello dell'omicidio. E il pensiero torna alle parole di Marco. Mamma, non sottovalutare i miei sogni, perché io tante volte sogno delle cose che poi si avverano e continuo a sognare che c'è qualcuno che mi vuole uccidere. Per Furlanetto il suicidio non spiegherebbe le conseguenze dell'urto alla testa avvenuto nello sbalzo, ma contro una superficie piatta, non le pietre della massicciata. Lo stesso vale per la distanza a cui sono state recuperate le scarpe. Circostanze che invece l'omicidio con il ragazzo lanciato contro il treno dopo una collutazione giustificherebbe, non senza però aprire interrogativi su altri dettagli. Il perito conclude ritenendo come più probabile, pur con qualche dubbio, un maldestro tentativo di suicidio, ma per i legali della famiglia appesare in questa direzione sono più che altro suggestioni legate alla morte del padre e alle problematiche del ragazzo. La mamma chiede alla procura di continuare a indagare. Questa perizia dice, non fa che rafforzare in noi la certezza che Marco sia stato massacrato e ucciso e, dico di più, a mio avviso il treno non l'ha neppure toccato. Da qui l'incarico ha un ingegnere cinematico per ricostruire nel dettaglio la dinamica dell'incidente. Infine la perizia stabilisce che un eventuale ritardo nei soccorsi, ipotizzato in prima battuta, non avrebbe avuto incidenza sulla morte. Tre ferrovieri del convoglio, da cui Marco è stato scorto esanime a terra, sono tuttora indagati per omissione di soccorso. Danni per 29 milioni e mezzo di euro è la stima delle conseguenze provocate dalla violenta grandinata dello scorso 25 giugno che il Comune di Vittorio Veneto ha inviato alla Regione. Da Venezia era stata chiesta una prima ricognizione dei danni subiti da enti pubblici, imprese e privati cittadini e il conto, come si temeva, è molto salato. Ahimè, abbiamo circa un milione e mezzo di danni al patrimonio pubblico e compresi i danni patiti dai privati e che ci sono stati comunicati, siamo a quasi 30 milioni di euro purtroppo. E questo solo per quanto riguarda il territorio comunale di Vittorio Veneto. La grandine, chicchi grossi come palline da tennis, ha lambito anche i territori di Tarzo e Revine. Auto con i vetri sfondati, tegole come queste del tetto della caserma dei carabinieri danneggiate, rivestimenti esterni degli edifici mitragliati, capannoni devastati, anche quello del primo cittadino. Risparmiata solo la zona sud-ovest della città, in migliaia si sono rivolti al comune che a sua volta ha avviato la procedura per chiedere lo stato di calamità. Le richieste che sono state recapitate e protocollate regolarmente in comune sono di quasi 2.500 domande tra cittadini privati e attività commerciali, industriali e artigianali. Speriamo che la Regione, dopo questa prima ricognizione che evidenzia un danno patrimoniale ai cittadini e alla città di Vittorio Veneto rilevante, possa concorrere a quelle che sono le spese che il privato e il pubblico dovranno sostenere. Contiamo sull'aiuto della Regione. Bimbi di Santa Maria del Rovere in visita al suo M118 e all'ospedale. Estate che non è solo divertimento, quella del Grest con il parroco Don Adelino Bortoluzzi e i suoi collaboratori che hanno deciso di fare educazione civica sul campo, un modo per contrastare anche la tendenza di bambini e ragazzi a trascorrere troppo tempo davanti a televisione e tablet. Cominciarci un po' dalle nuove tecnologie sotto alcuni aspetti, far vivere l'esperienza diretta ai bambini, riportarla e riconfrontarla con noi. Ci allontaniamo un po', cerchiamo soprattutto in questo periodo di far vivere ai bambini esperienze reali, esperienze concrete. Tante le curiosità dei bambini sottoposti agli operatori di Treviso Emergenza. Il nostro lavoro in genere è come sono fatte le ambulanze, un'attenzione particolare per l'elicottero naturalmente. Abbiamo vissuto un'esperienza bellissima con gli anziani di una casa di riposo. Poi siamo stati dalla polizia locale, siamo stati nella Caritas e quindi siamo arrivati all'ospedale. La cosa che mi è piaciuta di più è stata l'ospedale comunque perché dare la propria vita per soccorrere gli altri è una cosa diciamo molto nobile, bella. Nicole. Nicole, tu si starai anche dai vigili urbani. Ti è piaciuto di più là o qua oggi? Tutte e due. Tutte e due. Siamo andati a vedere la casa di riposo a San Pelaio. Hanno un bel giardino, la casa è anche abbastanza bella e gli anziani mi sono sembrati entusiasti di stare là. E poi la visita al comando dei vigili del fuoco. Abbiamo visto anche un camion grande che non può andare nella strada e spara l'acqua da giù e su. E l'altro un camion che può andare a una scala lunga. Che dopo una persona si era buttata con la corda giù dall'aereo e dopo è risalita. Ne faremo altri anche perché noi rispondiamo a una lettera che il sindaco ha mandato. Aiutatemi a osservare la città e restituitemi ciò che voi vedete con gli occhi da bambino. E dalla marca trevigiana per oggi è davvero tutto. Grazie per l'attenzione e un buon proseguimento di serata. Ovviamente su Rete Veneta. Grazie per l'attenzione. Grazie. Grazie a tutti.